Grazie, grazie. Allora vi abbraccio tutti, un abbraccio sintonico, passo avanti per potervi vedere meglio, ecco. Allora, innanzitutto, come vi ho detto inizialmente, siamo arrivati appunto alla tredicesima edizione di questo festival delle solfare che io lo conosco da un paio di anni. L'anno scorso sono stati in giuria, anche quest'anno lo sarò, poi scopriremo un po' di cose strada facendo. Innanzitutto, io ho chiesto al patron di questo concorso perché il festival delle solfare? Mi sono incuriosito appunto per questo. Si suppone che intorno al 1600 siano iniziati i primi scavi per la ricerca del non zolfo fra il territorio di Sommatino, pensato un po', e quello di Riesi, nella miniera denominata Solfara Grande. Così i paesi vicini si popolarono di persone in cerca di lavoro provenienti da ogni parte della Sicilia. Ancora oggi, visitando esternamente la miniera Trabia, non so se si dice in questo modo, è possibile vedere cosa rimane di tutto l'impianto estrattivo. Pensate che per ben quattro secoli ha caratterizzato non solo l'economia, ma anche la vita, la cultura, i costumi e le tradizioni di questo popolo attorno a questa bella città di Sommatino. Un applauso, un applauso ancora una volta. Facciamolo, signori dovete partire con gli applausi spontaneamente in tutta questa serata. Allora, dobbiamo ringraziare innanzitutto, con la fortuna di un concorso e la fomia, il fonico Daniele Eventi. Eccolo che si trova qui. Un applauso anche a Daniele. Dobbiamo ringraziare coloro che hanno dato la possibilità di poter fare tutto questo che vedrete stasera. e ringraziamo il sindaco nel nome di Jean-Pierre Romeo, la giunta comunale, i Carabinieri, la Croce Rossa con Danilo Cosentino. Anche a loro va il vostro applauso e il nostro applauso e il nostro grazie per tutto. Detto questo vorrei presentare con lei che mi affiancherà in piccola parte in questa conduzione, ma che poi lascerò la scena, il proscenio e il parterre a questa grande artista. Lei è la bellissima solare, Carmen Bisicchia! Eccola qui! Buonasera, buonasera Sombatino! Eccola qui, la bella Carmen! Che bella questa piazza! Per la seconda volta si trova a condurre. È un piacere veramente, un onore anche. Dai, è un piacere intanto trovarti insieme, sempre nei palcoscenici che noi un po' giriamo, ecco. E quindi vi ritrovo la bellissima Carmen che ormai è diventata sei, un artista a tutti gli effetti. Facciamo un applauso alla sua bellezza e alla sua professionalità. Grazie. Nella nostra Carmen Bisicchia. Allora, detto questo, volevo far partire un po' questo concorso con dei piccoli artisti. Questi artisti, per dovuta, dovuta alla giovanissima età, di sotto dell'età che compone il regolamento, diciamo, del concorso. Allora, questi ragazzini li chiamiamo qui sul palco. Li chiamiamo sul palco. E sono Nathan Asaro, Gemma Ambrosiano, Gioia Auria, poi abbiamo Noa Bottaro, Maria Francesca Mancuso, Atenae Geraci e Gloria Erba. Dove siete ragazzini? Spero tanto che arriveranno. Ecco, eccole qui. L'applauso, l'applauso, vieni, vieni, vieni. Sono tutti piccolissimi, perciò hanno bisogno del vostro sostegno, del vostro applauso. Sono bellissimi. Venite tutti qui, venite, venite. Vieni, vieni, vieni. Venite più al centro. Ecco, tu come ti chiami? Come ti chiami? Gloria. Come? Gloria. Gloria, Gloria. E tu? Gioia. Gioia, che bel nome. Ok, e tu invece come ti chiamo? Gemma. Gioia, perché altrimenti non ti vede nessuno. Gemma. Mettetevi tutti in linea, dai. Tutti in fila, tutti in fila. Tutti in fila.